ciao ragazze allora nuovo video tutorial in questo video facciamo insieme l'orecchino paoletta dedicato a paola belardi eccolo qua questo è il modello il primo modello che ho realizzato ho realizzato anche questa versione dove praticamente ho sostituito la jam duo qua sul fondo con la super duo però io preferisco questa versione qua e vi faccio vedere l'ultima versione che andremo a realizzare in questo tutorial che è leggermente modificata ed è più stabile ed è questa qui ho modificato qualche passaggio in modo che il tutto l'orecchino risulti più rigido vedete si muove e niente vi dico subito il materiale necessario per poterlo realizzare abbiamo bisogno di super duo perle cioè mezzi cristalli da 3 mm oppure potete utilizzare delle perle da 3 mm o delle rocaille 8 0 della toho bicono da 4 mm o perle da 4 mm gem duo perle da 6 mm rocaille 11 0 della miyuki partiamo subito la prima cosa da fare quella di inserire sul lago una perla da 6 mm una rocaille una super duo una rocaille una perla da 6 mm una rocaille una super duo e una rocaille chiudiamo a cerchio e facciamo un paio di nodi e ripassiamo nuovamente all'interno della lavorazione per renderla più stabile ecco qua come ci ritroveremo sto uscendo dalla perla inserisco sul lago una 11 una super duo una 11 un bicono da 4 mm una 11 una super duo e una 11 e rientro nella perla dall'altra parte ripasso un'altra volta per stringere bene il lavoro usate ripasso un'altra volta all'interno di quest'ultimo giro e fuoriesco poi dal bicono a questo punto inserisco una 11 una super duo una 11 una perla da 3 mm una 11 una super 2 una 11 e rientro all'interno del bicono dalla parte opposta ripasso all'interno di quest'ultimo giro per rinforzare a questo punto fuoriesco dalla perlina dalla rocaille 11 0 che precede la perla da 3 mm inserisco sul lago una super duo una 11 una super duo e passo nella rocaille successiva ecco qua a questo punto inserisco due rocaille 11 0 e passo nel foro alto della super duo che abbiamo sotto e tiro bene il mio filo a questo punto inserisco una rocaille 11 0 e una super duo e passo nel foro alto della super duo successiva adesso inserisco una perla da 3 mm una super duo e passo nella super duo successiva arrivata a questo punto inserisco sul lago questa sequenza qua quindi una super duo una rocaille 2 super duo una perla da 3 mm una gem duo una perla da 3 mm 2 super duo una rocaille 1 super duo e passo nel foro alto della super duo che mi trovo dall'altra parte a questo punto qui inserisco le stesse sequenza che ho inserito qua al contrario quindi prendo una super duo e una perla da 3 mm e passo nella super duo successiva qui passo inserisco una super duo e una rocaille 11 0 e passo nella super duo successiva e tiro bene il filo qui inserisco due rocaille 11 0 e passo in questa rocaille qua bene adesso passo nel foro alto di questa super duo inserisco 7 rocaille 11 0 e passo nella super duo che mi trovo subito di fronte a questo punto inserisco una perla da 3 mm e passo in questa rocaille qui a questo punto inserisco una perla da 3 mm e una rocaille 11 0 e passo in questa super duo a questo punto inserisco 3 rocaille 11 0 e una super duo e passo nella super duo successiva una rocaille 11 0 e passo nella super duo successiva una perla da 3 mm e passo nella super duo successiva una rocaille 11 0 e passo nella super duo subito successiva sto uscendo da questa super duo inserisco una perla da 3 mm e 6 rocaille 11 0 porto giù alla fine del filo entro nella jam 2 dalla parte opposta tirate bene fuoriscite dalla terza locaie terza e quarta tirate bene così uscendo da qua prendo una rocaille 11 0 passo nelle due successive prendo altre due rocaille 11 0 e una perla da 3 mm e passo e tiro bene ok a questo punto facciamo gli stessi passaggi che abbiamo fatto dall'altra parte quindi una rocaille 11 0 una perla da 3 mm un'altra rocaille 11 0 una super duo e 3 rocaille 11 0 a questo punto inserisco una 11 e una perla da 3 mm e passo in questa rocaille qua ultimo passaggio una perla da 3 mm e passo nella super duo ecco qua ecco qua che sto fuoriscendo dalla prima rocaille delle 7 ecco qua allora prendo una rocaille 11 0 rientro all'interno di questa stessa perlina e anche di quella successiva questa andrà a posizionarsi proprio sopra di nuovo una rocaille 11 0 e rientro all'interno di questa perlina dalla quale sto uscendo ed entro anche in quella successiva nuovamente una rocaille 11 0 e rientro all'interno di questa stessa perlina e anche di quella successiva che è quella centrale qui aggiungiamo 3 rocaille 11 0 e rientro all'interno di questa perlina e anche di quella successiva andiamo a fare la punta praticamente e adesso continuiamo per queste 3 perline come abbiamo fatto qua ok una volta fatto questo dobbiamo tornare indietro entrare nelle prime 4 in modo da allinearle bene e nelle ultime 4 saltiamo quella di punta così non si abbassa e stiamo tutti più tranquilli vedete come si è allineato bene adesso dobbiamo aggiungere 2 rocaille 11 0 e passiamo nella perlina successiva una rocaille 11 0 e passiamo nella perla e anche nella rocaille successiva a questo punto inseriamo 3 rocaille 11 0 una perla da 3 mm ed entriamo nel foro alto di questa scusate di questa super duo 2 rocaille 11 0 e passiamo in questa rocaille qua inseriamo 6 rocaille 11 0 ed entriamo in questa rocaille qua 4 rocaille 11 0 ed entriamo nella perlina nella prima perlina subito dopo la perla da 3 mm bene a questo punto dobbiamo praticamente fare su queste perline qua che si trovano tra le perle da 3 mm ed entriamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto di qua quindi furiesco da questa perlina prendo una perlina una rocaille 11 0 e rientro all'interno della stessa ed entro anche in quella successiva e ce la posso fare un'altra rocaille 11 0 rientro in questa perlina qua e anche in quella successiva quindi lo facciamo altre 1 e 2 volte sto uscendo dalla perlina centrale prendo 2 rocaille 11 0 e ripasso nella rocaille rientro nella stessa rocaille e in quella successiva la punta qua la mettiamo dopo inserisco una rocaille 11 0 e rientro all'interno di questa perlina e vado avanti anche per le altre 3 perline successive ecco qua che abbiamo lavorato da questa parte qua però non torniamo indietro per allineare le perline lo facciamo dopo quando dobbiamo ripassare da qua e andiamo ad allineare tutte quante questa questa seconda fila di perline quindi a questo punto qua dobbiamo fare tutti i passaggi che abbiamo fatto da questa parte quindi 4 rocaille 11 0 e dentro nella perlina qua poi 6 rocaille 11 0 e dentro nel foro alto della super 2 e ce la faccio e dentro nella perlina qua poi 2 rocaille 11 0 e dentro nel foro alto della super 2 poi qua abbiamo messo perla e 3 rocaille 11 0 quindi gli stessi passaggi che abbiamo fatto dall'altra parte solo che al contrario li dobbiamo fare poi qua passiamo anche nella perla inseriamo una rocaille 11 0 e passiamo nella perla successiva 2 rocaille 11 0 e passiamo in queste perline qua usciamo dalla punta e facciamo già il cappietto anche se non abbiamo ancora finito facciamo il cappietto di 4 perline adesso rinforzo passandoci un paio di volte ecco qua ho fatto il cappietto adesso vado avanti ed esco da questa perlina qua che precede la perla da 3 mm allora sto scendo da questa perlina qua che precede la perla da 3 mm prendo 6 rocaille 11 0 ed entro in queste 3 perline qua e poi esco anche dalla perla da 3 mm 3 rocaille 11 0 e passo nella perlina qua una rocaille 11 0 e passo in questa perlina qua e anche in quelle successive e tiriamo bene penso che non ci siano più altre perline da aggiungere no infatti adesso andiamo avanti nella lavorazione e dobbiamo semplicemente andare ad aggiungere la perlina di punta qui una rocaille 11 0 e passiamo nelle rocaille successive andiamo avanti poi esco da questa perlina qua prendo una rocaille 11 0 come ho fatto dall'altra parte dentro qua 3 rocaille 11 0 e dentro nella perla da 3 mm nelle 3 perline successive poi 6 rocaille 11 0 e dentro in questa perlina qua praticamente l'orecchino è finito dovete ripassare nell'ultimo giro per rinforzare e basta e poi mettete la monachella ecco qua che i nostri orecchini paoletta sono pronti spero che il video sia stato chiaro so che non è uno dei progetti più semplici che abbia fatto ma più che altro per i diversi passaggi che richiede questo orecchino niente ragazze ci vediamo al prossimo video ciao